Ora non è un po' ovvio, bisogna allargare, via media? Vedere, sì. E' bravo, se ti va di carameggiare, per quanto si ci si passa. E' bravo, se ti va di carameggiare, per quanto si ci si passa. E' bravo, se ti va di carameggiare, per quanto si si passa. Obama aveva 4 anni, ma sono passati 4 giorni, non ce l'ho di questo. E' con 80 e 2. Grazie.